cari amici benvenuti in questa nuova live dedicata al disegno come potete vedere qui davanti a voi c'è una bella glitch 999 che non aspetta altro che mi ci metta un pochino a lavorare come potete notare ci sono anche delle altre creature che la circondano a partire da un po di reference dovete sapere una cosa normalmente quando disegno per aiutarmi utilizzo delle reference ovvero dei disegni miei e anche di altre persone talvolta perché almeno in questo modo posso darvi un'idea di come voglio che sia il disegno finito ovviamente qui c'è glitch la vera glitch la skin di minecraft qua c'è un disegno di una disegnatrice bravissima che si chiama oddio non me lo sto ricordando yanna natsu forse dovrei controllare comunque poi magari ve la link in descrizione e qui c'è un mio disegno che magari qualcuno di voi conosce i miei disegni poi trovate tutti su spread certe quelli più carini e quelli col copyright free allora qui stavo facendo un bello scarabocchio di glitch 999 come potete vedere ho già cominciato a fare lo scarabocchio un po del corpo e quello del delle caratterizzazioni quindi vestiti quando avete qualche dubbio su come fare le cose e questa è una cosa che io stessa mi dimentico costantemente esiste una cosa molto molto magica che si chiama pinterest vi consiglio fortemente di scrivervi tanto basta accedere con facebook e di utilizzarla ampiamente di abusarne più possibile per utilizzare tutte quelle cose che non sapete disegnare faccio un esempio io non so disegnare i cappucci però glitch 999 ha un cappuccio come faccio vado su pinterest e prendo questa immagine di un ragazzo col cappuccio non si vede un tubo aspettate la ingrandisco un po ecco come potete vedere adesso ho già una reference più chiara di quello che voglio che glitch 999 abbia indosso visto che io delle volte ho dei problemi a decidere come sono fatti i vestiti magari le reference mettetele in punti in cui non vi danno fastidio perché altrimenti non ci capite nulla ecco ora qui per esempio ci sono dei punti che potete anche cancellare di queste immagini però me la metto qua giù in basso e così potete avere un'idea abbastanza abbastanza buona di quello che dovete fare allora personalmente e di pinterest me ne dimentico ma pinterest come tante altre cose ecco più o meno google è vostro amico ricordatevi sempre quando non sapete come disegnare qualcosa non fate come me che per anni ho cercato di dire no io voglio disegnare a memoria le cose le voglio saper fare no imparate imparate da chi sa fare le cose così per tutto vi faccio vedere prima l'anatomia del corpo perché è sempre importante dall'occhiata l'anatomia qui ho fatto uno schizzo di un corpo femminile abbastanza abbozzato perché dico questo perché l'anatomia non è realistica le braccia sono troppo corte e la vita è troppo stretta ovviamente è un formato femminile che in natura non esiste la testa è troppo grande ed è un po tipo bambola tipo brazzi tipo pullip un po quello che volete ecco il formato più vicino al cibi ecco la forma di cibi un po meno cibioso che piace utilizzare a me che mi piace tantissimo perché la trovo carina pucciosa allo stesso tempo non troppo impegnativa ricordatevi sempre però che per dare una solidità alle figure per quanto possano essere cibi è importante che voi diate una stabilità anatomica per esempio ricordatevi sempre l'importanza di disegnare le articolazioni nelle posizioni giuste per esempio ve lo faccio vedere con un alto livello più colorato prolevo ricordatevi sempre che il gomito si trova all'altezza della vita come si fa a sapere dove la vita la vita si trova laddove c'è il vostro ombelico quindi significa che grigio più o meno l'ombelico dovrebbe averlo in questo punto qui ricordatevi sempre che ci sono le clavicole maschio femmina che uno sia ci sono le clavicole solitamente le clavicole essendo una parte femminile si enfatizza più nelle donne che negli uomini ma ricordatevi che ce l'hanno entrambi perché letteralmente un osso e quindi utilizzate questa cosa e poi ricordatevi sempre la proporzione tra spalle e fianchi che nelle donne più o meno è simile mentre nei maschi sono tendenzialmente più larghe le spalle rispetto ai fianchi anche glice per quanto sia cibi ai fianchi comunque rotondi per dare l'idea di una figura di donna appunto perché comunque glice non si sa quanti anni possa avere potrebbe avere 3000 come potrebbe averne due non lo sappiamo però la forma che ha è quella di una donna comunque abbastanza adulta mi raccomando disegnate tutte le parti anatomiche abbastanza precisamente tutte le articolazioni ricordatevi che le articolazioni danno un effetto più di fragilità e più di femminilità le articolazioni grosse invece danno un effetto più infantile o più maschile dipende un po come come volete fare ecco magari non prendetemi troppo per oro colato non ho mai fatto corsi di disegno vero e proprio quelli che vi sto dicendo sono soltanto consigli che vi posso dare perché io stessa magari ho provato a fare determinate cose e quindi ve le faccio vedere visto che domani c'è la origini ho detto facciamo un po di glice 999 live che era un po che la volevo fare facciamola poi ho aggiunto il livello superiore che è quello dei capelli del cappuccio dei vestiti ecco vestiti per me sono sempre stati un incubo esagerato perché non so fare benissimo le pieghe allora in questo caso glice indossa un cappuccio da cui fuoriescono i capelli e un paio di pantaloncini corti ecco i pantaloncini corti e un paio di stivali allora io adesso devo trovare il modo di dare una caratterizzazione a questi maledettissimi stivali però cominciamo prima dalla faccia allora la faccia direi che più o meno ci può stare ho disegnato i lineamenti glice non ha il pupille visibili magari le posso fare lo stesso un po in trasparenza giusto per dare l'impressione che non sia completamente priva di vista come avete notato io non sto utilizzando il nero per disegnare ma sto utilizzando il marrone scuro ciao domenico benvenuto in questa live vi racconterò un fatto buffo erroneamente stavo andando in live su twitch invece che su youtube perché avevo settato male obs purtroppo normalmente uso due programmi diversi per stimare su twitch su youtube ovvero uso steam labs obs per twitch e obs normale per youtube ma ieri sera steam labs obs ha deciso di volermi far dannare l'esistenza in questo modo ho dovuto utilizzare obs normale per andare in live su twitch ottenendoci come risultato il fatto che non mi dava le notifiche quando qualcuno mi si iscriveva e in questa maniera ci ho ottenuto che oggi c'è caso di andare in live e mi ha messo twitch invece che youtube perché mi ha dimenticata di risettarlo scusate mia colpa poi andò a cancellare ciao bladi benvenuto in questa live si ho sbagliato sono erroneamente andata in live su twitch per tre secondi perché avevo settato male il programma di streaming esatto mi sono appena accorta di signale pupille che uno di questi occhi era simmetrico vedete vedete quante cose importanti si imparano anche semplicemente facendo dei cambi allora vi faccio vedere una cosa intelligente allora io tutto sommato mi dico senti quest'occhio l'ho fatto male fa schifo quell'altro mi è venuto bene facciamo una cosa intelligente facciamo una cosa intelligente selezioniamo quest'occhio copiamolo incogliamo lo spazionatamente la e giriamo dall'altro lato perché è ovviamente è un po no non in questo senso diciamo dall'altro lato giriamo la selezione dall'altro lato perché ne ha bisogno di essere girata la adesso glice ha un aspetto un po strano me ne rendo conto adesso la sistemiamo ricordate che glice è un po strana di suo ecco così l'ho piena fatta un po strabica ora la giustiamo non vi preoccupate allora intanto andiamo a cancellare tutte quelle zone dell'occhio anzi l'occhio sarà un po più grande perché è da questo lato che glice è leggermente girata quindi quest'occhio potrebbe essere un pochino più grande dell'altro e adesso andiamo a cancellare l'occhio cioè la pupilla e mettiamo dall'altro lato iride e palla dell'occhio e tutto la mettiamo dall'altro lato magari la giriamo anche e la mettiamo di qua ecco ora già è un po meno inquietante non vi potrò mostrare tutto l'intero processo creativo purtroppo per due motivi il primo che sono lenta come non so che cosa disegnare e il secondo è il fatto che ci vuole veramente tantissimo io a volte mi imbarazzo un po quando disegno in live devo essere sincera non so spiegarvi perché ma mi viene un po da imbarazzarmi ecco qui abbiamo una bella glitch che si che si imbarazza no non è vero non si sta per niente imbarazzando aspettate cancelliamo un attimo il livello sopra e concentriamoci un attimo soltanto sul viso allora come si fa ad esempio a sistemare per bene il viso intanto togliamo un po di sporcizia perché a volte mi capita di sporcare un po il disegno con tutte le vai schemi che mi faccio prima per decidere dove stanno gli elementi e adesso mi si bagga la vetta grafica ma ti sembra il momento di baggarsi a me no allora questa qui la linea del viso dall'altro lato si cancella naturalmente e queste sono le linee delle ciglia ho deciso che glitch ha le ciglia molto lunghe perché è pucciosa e quindi ha le ciglia lunghe e molto femminili visto che gli occhi saranno praticamente brillanti e bianchi perché glitch ha gli occhi bianchi voglio decidere di enfatizzare molto il contorno dell'occhio quindi gli faremo molte ciglia anche sotto perché anche questo enfatizza lo sguardo cosa stai facendo anche questo enfatizza lo sguardo scusatemi purtroppo ogni tanto quando disegno mi compare la stramaledetta tastiera a schermo purtroppo questo è un problema per me perché da quando ho rotto la tastiera del portatile devo utilizzare una tastiera esterna e mi è comparso questa bestia di satana qui in basso che non so come togliere prima o poi la riuscirò a eliminare in qualche maniera questa ecco questa non la vedete ma io la vedo purtroppo comunque cercherò di stare attenta a non mettere le mani da nessuna parte allora concentriamoci sul viso di glitch senza toccare la tastiera sul schermo possibilmente grazie qualche volta mi è capitato anche nella live con le x sisters e tutto questo purtroppo sono difetti del problema che devo usare la tastiera per fare le cose che invece non vorrei usare allora cosa potrei fare adesso per dargli un'area più sensata intanto di fare il naso spesso i cibi non hanno il naso ma io spesso un po di nasino tendo a farglielo quindi facciamoli un piccolo naso più o meno qui non so dirvi se glitch 999 a differenza mia è dotata ad un nasino piccolo e simpatico mentre io ho un naso che è grosso e anche un pochino antipatico delle volte facciamole un nasino tranquillo glitch non porta il rossetto probabilmente quindi le farò poi le labbra abbastanza di un color carne quindi abbastanza naturale quello che in in cosmetica si chiama my lips but better my ml bb è un modo per dire un rossetto color carne che però mi rende più belle labbra onestamente ai miei rossetti color carne non sono mai piaciuti ma quelli sono gusti miei ok abbiamo definito meglio il volto di glitch alle sopracciglia alzate perché comunque glice è sempre un po' glitchosa nel senso che è sempre un po' stupidina anche dopo aver bevuto la pozione dell'intelligenza è un po' stupidina e quindi le sopracciglia sono una cosa che tante volte quando poi la ripasso tendo a copiare e incollarla in modo che siano completamente simmetriche anche se in realtà le sopracciglia e questo l'ho imparato seguendo quei make up non sono gemelle ma sono sorelle che significa che non devono essere essenzialmente uguali però la prospettiva io la vorrei seguire lo stesso ok più o meno diciamo che il viso l'abbiamo finito ora passiamo a rifinire la posizione un problema per me sono sempre stati i polsi le mani queste cose ed è uno dei motivi per cui mi piace disegnare il cibi perché i cibi posso anche evitare di essere troppo accurata quando faccio queste cose anzi posso direttamente censurarle allora guardiamo un attimo le braccia le braccia sono di quelle parti del corpo che solitamente non si pensa ma sono praticamente piatte ovvero a meno che voi non siate palestrati l'avambraccio è praticamente privo di massa muscolare o comunque è talmente poca che quando la disegnate soprattutto su una ragazza è assolutamente adascurabile ed è il motivo per cui sto facendo a glice il braccio completamente piatto in realtà questa cosa non mi serve perché poi andrò a coprirla con i vestiti come vedete c'è dalla felpa però almeno posso dare un'idea di come sarà l'anatomia i polsi sono un po spessi come potete notare andiamo a sottigliarli vi tolgo il vestito perché non ci capite niente nemmeno io e andiamo a fare un polso più sottile in questo punto cioè faccio anche finta di sapere quello che sto facendo ragazzi e non vi vorrei dire grice alle mani come dire hey sono io sono grice salutami e quindi gli facciamo le mani una posa un po più dinamica non so bene ancora se avrà le dita o se avrà soltanto la manina col pollice basta in stile molto cibioso ecco non so se esattamente questo effetto volevo ottenere probabilmente no aspettate voglio cercar di dargli una mano comunque un pochino più mossa ecco le mani per me sono un incubo veramente magari al pollice tipo e ciao sono chi sono glitch salutami amami vi voglio bene vi voglio tanto bene esatto sto usando pentusai grazie bladi per averlo scritto in chat e pentusai è un programmino molto carino che uso da un po di tempo dovete sapere che le prime volte che ho usato pentusai l'ho odiato proprio tantissimo non so bene spiegare ancora il motivo forse mi è venuto in mente che era perché non avevo la tavolita grafica quindi usarlo con il mouse era praticamente un incubo ecco e sono arrivata al punto in cui non mi riesce a disegnare l'altra mano e allora quando non riesco a disegnare una cosa dall'altro lato il trucco rimane sempre il solito prendete il lato che vi riuscito a disegnare e appiccicatelo di prepotenza e di cattiveria dall'altra parte una volta che avete capito qual è il livello giusto perché io me lo dimentico sempre quindi copialo copialo no no volevo selezionare la manina la manina copiala copiammi la manina copiala e incollami un'altra manina grazie molto gentile la parte sua ovviamente giratela perché sennò questa glitch si troverà con le mani un po storte però almeno la abbiamo due manine di glitch forse sono un po piccole ste mani devo decidere le mani piccole fanno tenerezza però devo decidere se così piccole vanno bene comunque vediamo un po magari farò anche più dita vediamo un po dipende come mi gira potrebbero essere delle mani molto stilizzate per il momento poi vedo come farle meglio e vabbè intanto comunque le dita e anche il resto del corpo ora per il resto glitch è vestita quindi non ce ne frega molto di cosa c'è sotto non mi metto a fare particolari tipo la clavicola non lo so se si vede la clavicola fatemi vedere se si vede la clavicola andiamo a farla alla clavicola toccatevi la base del collo sentite che c'è un buco lì dove si incontrano gli ossi quindi all'incirca glitch è la clavicola visto che è simmetrica qui glitch è più o meno allo sterno all'incirca spero lo vediate qui è la linea dove passa l'ombelico qui è la linea che va verso l'inguine questo significa che la clavicola dovrebbe essere all'incirca qua per farla nel posto giusto ecco più o meno dovrebbe essere qui esatto mi raccomando enfatizzatela soltanto nei personaggi magri altrimenti utilizzatela per per darvi un'idea anatomica di dove debbano essere le cose in un punto preciso ecco scusatemi se non sto leggendo troppo la chat però l'ho un po mezza coperta al momento vedo soltanto i nomi dei moderatori cioè riconosco soltanto i nomi dei moderatori perché sono scritti di blu e purtroppo vi leggo poco in questo momento perché proprio letteralmente non vi riesco a vedere comunque spero di starvi comunicando qualcosa lo abbiamo fatto la faccia abbiamo fatto le clavicole abbiamo fatto le mani adesso è il momento di fare qualche cosa ai vestiti allora glice 999 ai capelli che le spuntano letteralmente dal cappuccio infatti dietro la skin i capelli sono soltanto davanti dietro non ci sono e qui e qui adesso facciamo disegnare i capelli allora glice capelli lisci però spesso mi piace farli un po fluenti anche per dare un po di movimento al disegno anche perché alla fine io stessa ho capelli che tendono a essere lisci ma poi fanno il diavolo che vogliono quindi non riesco a disegnare dei capelli che siano veramente liscio spaghetto dovrei disegnare i capelli liscio spaghetto vi faccio vedere un po come fare vagamente io faccio in questa maniera ovvero non so prendiamo per esempio questa è una frangetta ci fate le linee tipo dei capelli un po così poi i capelli proprio quelli liscissimi sono un po più incasinati a disegnare perché finisce per fare l'effetto tendina io spesso tendo a fare in questa maniera non so dirvi quanto sia corretta come particolare però ora lo sto disegnando in quattro secondi e mezzo ho anche dei disegni un po più rifiniti fatti in questo modo comunque i capelli lisci li faccio più o meno così ecco magari con le proprio con le linee lisce che danno l'idea del liscio a me non mi vengono così neanche se me li piastro ve lo dico però ecco non spero di aver dato vagamente l'idea come dire proprio quelle cose super super laccate piastrate ecco per dare un'idea vaghissima di quello che faccio comunque solitamente tendo a fare un po più mossi perché sono gusti miei personali ma quello potete fare un po quello che credete ho deciso che glitch ha i capelli leggermente movimentati perché quel giorno andata a letto con le trecce e quindi si è svegliata con i capelli ondulati adesso tre ore dopo ho cancellato quello sgorbio che ho disegnato lassù ecco appunto allora concentriamoci un attimo sui capelli forse è un po esagerato però controlliamo un po l'acconciatura di glitch sia esatto la tangente ad anastasia stile esattamente glitch ha una specie di ciuffo laterale e dei ciuffi ai lati del viso ed è quello che sto cercando di fare allora da questo lato la frangetta inizia e dall'altra parte finisce quindi alla specie di grosso ciuffo che le prende tutto il viso ecco secondo me sto ciuffo qui l'ho sbagliato devo cercare di sistemare meglio questa parte perché questa è una pettinatura che può starci anche in real life però forse veramente troppi capelli allo stesso lato qui adesso vediamo di fare una cosa che sia più armonica non so se ci si capisce qualcosa perché ci capisco già poco io e quindi spero di far capire qualcosa anche a voi probabilmente glitch ha la riga da un lato dei capelli quindi aveva un ciuffetto qua magari che è quello che si vede anche un po nella skin aveva un ciuffetto qua e poi aveva un ciuffo più lungo che le attraversa i lati del viso proviamo a vedere se così torna ecco così più o meno dovrebbe tornare ha dei ciuffetti qua vediamo se riesco a enfatizzarli meglio sono quasi tentata di metterlo più meno visibile possibile ecco forse così lo vedete ancora meglio grazie domenico per essere passato a moderare allora quindi no quello ciuffo lì non mi piace non mi sta piacendo quindi lo rifacciamo ecco vi faccio un'idea di qual è il mio processo creativo sono una persona che è estremamente lenta a disegnare purtroppo ho questo difetto sono magari gli sketch sta tastiera su schermo magari gli sketch ve li faccio anche in fretta ma non sono altrettanto brava a fare i disegni quelli raffinati quelli comunque più definiti quelli più finiti insomma un po perché non sono veloce di mio e un po per il fatto che voglio andarci piano voglio essere tranquilla voglio essere sicura che quello che sto facendo va bene quindi proviamoci proviamoci allora questo ciuffetto per esempio lo voglio fare più attaccato agli altri capelli perché mi piace di più come effetto ecco potrebbe avere anche più di un ciuffetto qui volendo facciamo dei tentativi sapeste quante volte le stesse cose le disegno lei disegno ecco già così potrebbe andarci ma sono troppo corti quindi come quasi tentare di eliminare completamente questi ciuffi e di fare direttamente il ciuffo grosso come se fosse una grossa frangia e basta mettiamo che un po' una frangia di quelle laterali super dove tutto da questo lato anzi ingrandiamo completamente questo lato facciamo che il ciuffo parte più in qua e eliminiamo questo problema ecco quindi lì c'è la riga laterale come se arrivassi fino a quassù più o meno immaginatevi che i capelli arrivino lì e poi andiamo a pensare così dovrebbe andare qui ci sono i ciuffi laterali del viso che però vorrei enfatizzare un po' come si enfatizzano facciamoli un po' più grandi allora questo qui è il ciuffo lungo che è quello che incorniscerà anche la parte del viso però non è detto che sia l'unica cosa che li incornisce al viso magari ci sono anche altri ciuffi di capelli quindi proviamo a farli questa è più una frangia secondo me che un ciuffo lungo quindi facciamo delle alte ciocche di capelli laterali tipo così ecco e anche dall'altro lato all'incirca la stessa cosa che già ce l'avevo messa ma un po' più difettata ecco così dovrebbe essere un po' più armonico e poi ci sono le ciocche di capelli più lunghi che escono dal cappuccio e che vanno a filarsi appunto sopra la felpa allora vediamo un po' adesso ho fatto un grandissimo casino con la felpa io vi posso dire questo ragazzi state attenti non fate come me che a volte tendo un po' a ignorare il passaggio della come si dice il passaggio della schizzo e poi mi trovo a diventare matta quando faccio il disegno quello finito perché anche questa fase qui è molto importante perché è quella di progettazione più la progettazione accurata più vi troverete con un disegno finito accurato anche perché qui viene fuori di tutto è anche se la fase in cui viene fuori veramente il tutto il peggio del tutto è quando andate a ripassare perché quando ripassate scoprirete proprio le peggio cose che avete lasciato tra cui asimmetrie disformie tutto l'ho inventata giusto però è per dire avete sbagliato le forme ecco ecco qui abbiamo i tuoi ciuffi davanti che aspettate voglio che questo ciuffo però sia davanti agli altri quindi questo ciuffo lo riprendiamo lo ridisegniamo un po più su in modo che spunti davanti agli altri ciuffi ecco qualcosa del genere in modo che incornisci proprio il viso di glitch e le stiano letteralmente bene perché alla fine quando voi siete disegnatori siete anche un po' parrucchieri e un po' make up arti se dovete riuscire a inquadrare il viso del vostro personaggio e a capire che cosa gli dona che cosa non gli dona ecco per esempio glitch un ciuffo qua secondo me dovrebbe starle bene ecco qualcosa di questo tipo allora a questo punto qui abbiamo tutti i ciuffi di capelli che le escono dal cappuccio e poi le ricadono sulla felpa e qui poi abbiamo anche tutta la parte che non si vede perché qui l'ho un po cancellata in cui si vede esatto qualcosa del genere spero spero che le vediate queste ciocche io sto cercando di visualizzarle sto facendo un macello me ne rendo conto e infatti il motivo per cui poi ripassare saranno dolori ecco intanto sto cercando di fare comunque uno schizzo preciso ecco glitch ai capelli ondulati però voglio fare qualche ciuffo in meno da un lato e qualche ciuffo in più dall'altro perché altrimenti non è simmetrico quindi da questa parte si vedrà anche un po il seno di glitch perché i capelli sono dietro mettiamo che sono tipo ai lati del ai lati sulle braccia e quindi da questo lato se ne dovrà vedere un po di più se avete visto ho fatto più capelli da un lato rispetto che all'altro ma nella schiena i glitch e capelli abbastanza simmetrici quindi cerchiamo di ricreare questo effetto vediamo un po facciamo anche un ciuffo di qua che spunta da fuori al cappuccio e più o meno dovrebbe ottenersi una cosa di questo genere no no allora quando si disegnano i ciuffi di capelli devo stare attenta ciao dd ci sei anche tu da qualche parte benvenuto in questa live dedicata a glitch 999 visto che domani c'è la origine mi è venuta la voglia di riesumare questa live anche perché oggi ho messo un video abbastanza corto ho detto perché no visto che ancora non è decente siamo d'estate magari domani non avete neanche scuola state finendo tanto vale ecco qui ho un po di dubbi perché ho messo questo ciuffo che va all'infuori quando tutti gli altri vanno all'indentro uno può dire perché crea movimento sì ma non mi piace quindi lo rifaccio verso l'interno perché secondo me ci sta meglio così ecco e quindi anche il ciuffo accanto ecco perché non riusciva a disegnarlo di conseguenza andrà verso l'interno là ecco più o meno un effetto del genere ora ci sono tanti tracci neta tanti schifi neri ho detto tracci non sapevo se dire tratti o tracce ha detto tracci però poi sono tutte cose che andremo a ripassare a cancellare comunque adesso glice ha dei capelli abbastanza definiti e una mano di meno dove finita l'altra mano di glice 999 è finita su un alto livello va bene non offendiamoci troppo quella mano comunque destinata a ricomparire ok qui abbiamo i capelli e adesso diamo un'occhiata ai vestiti allora non sono super convinta di come ho disegnato le maniche della felpa io non so disegnare i vestiti ve lo dico subito non li ho mai saputi disegnare questo non vuol dire che non mi impegnerò per farlo proviamo a vedere se riesco ad aggiustarli un po allora una felpa abbastanza morbida però anche un minimo attillata perché comunque glice è femminile quindi vuole roba attillata per quanto si vesta un po come mi vesto io in realtà con la difenza che lo uso di shorts d'inverno perché mi fa freddo cioè non userei mai una felpa a maniche lunghe insieme a un paio di pantaloni corti oddio non è vero in realtà d'estate no ma d'inverno a volte l'ho fatto ma non così corti magari comunque con il collante sotto mentre glice non porta il collante porta un paio di pantaloncini corti e vediamo un po se riusciamo a capire come fare questa zona ecco questa magari me la devo riguardare un po off camera però penso che il problema peggiore sia come disegnare gli stivali allora ho deciso che queste maniche hanno una specie di elasticino in fondo però non so se è una scelta molto bella da parte mia potete anche le maniche larghe in realtà perché dalla schiena non si capisce come dovrebbero essere potete anche eliminarla questa parte effettivamente facciamo che si vedano un po le mani un po di più le mani anche l'altra mano grazie ecco appunto potete fare però che sia più morbida come manica piuttosto che abbia elastico lo potete togliere potete toglierlo e magari fare una apertura più morbida dove infilare il polso magari non troppo però un po più morbida ecco come se fosse un effetto più così forse lo preferisco perché l'idea dell'elasticino può essere un po più un effetto di chiusura alla fine ingoffa soltanto la figura preferisco forse farla aperta vediamo un po come sono più facilmente le maniche delle felpe in realtà cioè ci sono anche gli elastici a volte io stessa sono piena di felpe con gli elastici ai polsi però non lo so non sono pienamente convinta no ti prego no 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 i ggess non sono su twitter sono su youtube e stabbona lo so che ho sbagliato lo sapevo lo sapevo lo sapevo lo sapevo anche a figuriamo dite tutti benvenuti a ggess che invece di di suonare il flauto potrebbe anche andare a mangiare vista l'ora però come già mangiato così presto di gesto cercando di fare una cosa seria per per cortesia lo so che ti sembra strano ma grazie grazie apprezzo molto ora che cosa ho aperto allora adesso torniamo a disegnare il polso della felpa non sono ancora di tutto sicura che mi piaccia come l'ho fatto però più o meno dovrebbe andare poi magari darò anche delle occhiate ai tutorial no cos'è sta curva no 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 vi faccio anche un esempio a volte capita se voi guardate un disegno dopo qualche giorno anche qualche secondo che l'avete fatto però avete visto un'altra cosa infatti voi no no ma cos'è sto schifo che ho appena fatto no via 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 e lo cancellate senza pietà io a volte lo faccio come avete visto ho appena cancellato una curva che avevo probabilmente appena appena disegnato perché ho deciso che faceva schifo e probabilmente avevo anche ragione ok ho deciso di togliere qualche piega della felpa tutto sommato forse non era così spiegazzata e ho aggiunto un po di elasticità in più alle maniche ok grazie di jessica che sei comparsa in live sei un tesoro e adesso passiamo alla parte che odio lo so disegnare gli stivali allora la forma del piede come l'ho disegnata non mi piace questo vuol dire che andiamo a rifarla allora i piedini cibi solitamente hanno un po' questa forma qui in realtà però vorrei farli più arrotondati più arrotondati perché sono più pucciosi comunque la prospettiva un po sbagliata dovrebbero essere un po più verso l'alto c'è un po più frontali vediamo se riesco a fare una cosa del genere sembrano un po degli stivali di quelli che c'è la pioggia fuori quindi mettiteli vediamo cosa riesco a ottenere magari diamogli un po' di forma questi stivali che non ne hanno al momento e poi diamo un po di forma intendo di diamogli un po di caviglie perché anche gli stivali meritano un po di caviglie nella vita le caviglie sono qui e i piedi sono qua più o meno magari hanno una forma non so forse se così mi piace però ci devo un po studiare ecco forse così ha già più senso perché è la forma del piede cibi però più sotto forma di scarpa questo significa che anche questo stivale va cambiato e ci mettiamo un un po più di piede la qualcosa del genere direi allora come potrebbe fare come potrei rappresentare questi stivali che ha glitch è come se avesse dei fiocchi quindi dei nastri sugli stivali vediamo se riusciamo a ottenere lo stesso effetto allora probabilmente questi stivali avranno una cucitura che adesso cerchiamo ad ottenere e vediamo di farla per bene allora vediamo un po una cucitura che sia simmetrica quindi vuol dire che gli stivali avrà la cucitura all'incirca nel centro di se stesso e se è nel centro significa che più o meno si troverà dove farò queste linee bruttissime che poi dovranno sparire nel fuoco ecco più o meno glitch immaginiamoci che va in giro così qui è la piegatura dello stivale quando piega la caviglia glitch si sembrano un po degli ags però ci sta ci sta che lei usi gli ags perché è umido dove sta lei ecco già sono meglio di quelli che avevano quando abbiamo iniziato questa live almeno sembrano degli stivali hanno una forma da stivale adesso facciamoci qualche dettaglio in più allora questa è la divisione di simmetria più o meno dovrebbe averla qua diciamo da questo lato e probabilmente avrà una specie di effetto corsetto che potrebbe partire da qui da qui e poi andare di qua vediamo se viene come effetto poi in alto sì più o meno così cancelliamo le parti che non servono perché se no non ci si capisce più nulla io già sono sul sul limite non capisci più nulla andiamo su e facciamo questa cosa poi qui sono chiusi in realtà sono chiusi ma sono aperti ai lati praticamente come se avessero un doppio strato questi stivali dentro e fuori e quella parte lì sarà chiusa da un corsetto cioè una lacciatura corsetto vediamo di farlo da entrambi i lati vediamo se riesco a dare l'effetto corsetto che vorrei dare all'incirca anche qui sono chiusi da entrambi i lati qui l'ho fatta un po storta vediamo di raddrizzarla in realtà è un po più spostata verso di là vediamo se riesco ok ammetto che non so perché questo programma lo odiassi all'inizio un po come odio anche quello che usa l'uscia per disegnare perché lei è se io vi sembro brava lei è 800 volte più brava capiamoci e sta a usare un programma che non sa neanche come si accendere allora ciao rigi ci sei anche tu ma ciao allora vediamo un po qui più o meno vorrei disegnare i punti in cui si incrociano i nastri all'incirca e vediamo se riesco a fare l'effetto che volevo fare ovvero questo poi magari questi nastri disegnerò in maniera più accurata nella fase di ripasso poi sotto ci sarà un'altra zona attenzione che li sto disegnando un po sotto un po sopra la cucitura non so se sono completamente convinta però non mi dispiace come effetto posso provare a rifarlo se non mi piace cioè finché il disegno non l'avete non lo so stampato su pietra potete ricambiarlo quanto volete la cosa bella del disegno digitale è quella quello manuale infatti mi toglie un po di poesia proprio per questo motivo perché una volta che hai fatto una cosa sei un po fregato ecco l'effetto stivali più o meno che volevo dare è all'incirca questo non ha i tacchi glice perché vuole sta comoda nella sua vita giustamente esattamente come a me che io odio i tacchi con tutto il cuore me li volevo mettere a Torino ma poi indovinate ha piovuto e mi sono detta o volo in terra con i tacchi o sto stabile sui piedi senza tacchi ho deciso che volevo stare stabile sui piedi senza tacchi datemi torto magari però potrebbe averci un po di spessore perché qui vedo che c'è una linea bianca che immagino che sia la linea della suola quindi vuol dire che questi stivali hanno un minimo di spessore sotto che le servono per non entrare nei pantani quando gira nell'umido quindi disegniamo in una specie di sottostivale una specie di suola letteralmente come le scappella ginnastica anche gli stivali ce l'hanno ecco così un po più sagomata in modo che ecco ecco già sono un po più convinta di questi stivali onestamente sono già un pochino più convinta adesso vediamo un po che cosa è rimasto da sistemare allora all'incirca ho sistemato più o meno tutto il vestito l'abbiamo aggiustato gli stivali ce li ha la faccia ce l'ha adesso proviamo a sistemare un po il cappuccio i cappucci non li ho mai saputi disegnare infatti il motivo per che ho preso una referenza all'inizio di questa storia per fare questo è vero che esiste la gomma dei disegni fatti a mano però a volte mi accorgo di aver fatto degli errori quando ormai il disegno è già mezzo colorato e allora che cosa faccio? mi ficcono un guaio invece in questa maniera posso riaggiustarlo quanto voglio anche dopo che lo sto iniziando a colorare sinceramente ragazzi che vi posso dire quando disegno in digitale non mi piace più fare disegni a mano li faccio eh li faccio ogni tanto se mi capita ma non mi piace più come mi piaceva prima ecco è un po' come come non lo so avere sempre scritto a mano e poi improvvisamente scoprire che esiste la tastiera è un altro mondo letteralmente mi piace molto di più qui c'era un buco nel cappuccio non è chiaro perché però adesso lo abbiamo tolto ok i cappucci non mi ha saputi disegnare spero di aver dato l'idea comunque del cappuccetto là allora questa è Glice 999 allo stato attuale delle cose è già un po' diversa un po' più rifinita di com'era quando abbiamo cominciato questa live eh se mi sento coraggiosa e non so se mi sento coraggiosa potrei cominciare a ripassare però prima qual è una cosa importante che ho sempre insegnato a fare quando si deve ripassare un disegno vediamo chi se la ricorda scrivete nei commenti se la ricordate girarlo dall'altro lato vediamo se Glice ha dei problemi da girare dall'altro lato allora magari troviamo un po' di reference perché se no non ci si capisce più nulla cioè le tengo eh non è che le brucio le metto tutte in una cartella le metto invisibili per un attimino prendiamo Glice da sola e vediamola un attimo vedete è un po' sbiecca è come se stesse guardando un po' indietro tipo eeeh sto cadendo allora vediamo un pochino la faccia può starci si è abbastanza simmetrica ci può stare però forse dovrei tirare un pochino su un punto dei lineamenti vediamo questo punto qui in particolare lo potremmo un po' risollevare quello del viso perché finisce prima in realtà l'ovale del viso ecco non si capisce già più niente perché ho usato per ripassare una linea che è un po' spessa adesso quando si ripassa ve lo faccio vedere e assottigliamo un po' anche la guancia che forse l'ho fatta un po' troppo pronunciata vediamo se così mi piace di più si in realtà si è un po' meno pronunciata la guancia secondo me sta meglio a posto allora a glitch piace farsi girare dall'altro lato si e beh a tutti i disegni piace a tutti i disegni piace farsi girare perché almeno in questo modo si può essere sicuro che non hai fatto errori e poi anche l'altra prospettiva di sotto ringrazia allora le gambe qui non so perché li sono partite dei pezzi di ginocchia definiamole meglio in modo che non ando a diventare pazza quando vado a ripassare ripassiamo meglio questa zona ecco ora dovrebbe essere più definita comunque mi sembra che anche al contrario questo disegno abbia la sua ragione d'essere quindi ragazzi lo sapete la fase dopo lo schizzo ovviamente è la fase del ripasso qui adesso rigiriamo il disegno dall'altro lato perché il disegno me lo sono immaginato da questo lato solitamente è una scelta vostra ovviamente cioè sono praticamente speculari perché sarebbe meglio che i disegni fossero speculari mi sono accorta che i primissimi disegni avevano dei seri problemi se li rigiravo la cosa non è per niente auspicabile adesso proviamo a ripassare tutto questo allora come si fa a ripassare un disegno si fa un altro livello e ci si ficano anzi si fa una cartella ci si ficano dentro tutte le parti del disegno schiacciato e si mette molto in trasparenza poi si prende un'altra cartella si mettono dei livelli nuovi si sceglie un colore io personalmente sceglierò il marrone scuro perché a me piace il marrone scuro come colore per ripassare prima usavo il nero ma mi sono accorta che secondo me vengono dei risultati più pastellosi usando il marrone invece del nero quindi userò il marrone anche stavolta allora mettiamolo un po' in trasparenza si vede ancora però non troppo e proviamo a fare quello che dobbiamo fare fino a ora adesso mi vedete fare 821 livelli perché perché sì ecco perché a me personalmente piace fa 21 livelli in questo modo posso anche vedere che lineamenti devo disegnare e quali no allora per esempio qui abbiamo i primi capelli teoricamente da fare perché i capelli nascondono buona parte dei lineamenti delle sopracciglia del viso glice e capelli molto coprenti nel viso vi consiglio una cosa se utilizzate anche voi paint to us eye per disegnare come sto usando io lo stabilizzatore tenetelo alto soprattutto se usate a tavoletta grafica perché vi faccio vedere la differenza questa è una linea con lo stabilizzatore alto al massimo questa è una linea con lo stabilizzatore al minimo e voi dite la differenza dov'è che è storta sì esattamente perché questo lo stabilizzatore messo a 1 mi permette di scrivere a mano praticamente è molto simile alla scrittura manuale e quindi se come a me vi temo un pochino la mano non vi verranno bene tutte quelle cose che devono essere un pochino curve a meno che non siano volutamente scritte così vi faccio vedere invece cosa succede se scrivete con lo stabilizzatore alto che vi fa delle curve molto più armoniche molto più perspicaci nel senso che sono fatte molto meglio vi viene molto meglio dietro il tratto ma se volete scrivere se lo trascina un po' dietro è molto più difficile scrivere con lo stabilizzatore perché a parità di velocità non vi sta dietro dovete scrivere molto lentamente spero si sia vista la differenza spero si sia apprezzabile secondo me si nota abbastanza la differenza ecco comunque ho fatto un esempio per dirvi che cosa serve lo stabilizzatore io lo uso molto alto perché mi trovo meglio con lo stabilizzatore alto però sono completamente gusti un'altra cosa quando disegnate con pen tool size potete decidere come fare la punta per esempio questa è la punta appuntita letteralmente che poi va a sfumare questa è la punta più arrotondata questa è la punta quadrata si vede anche in base allo sbuffetto che lascia in fondo e questa è la punta letteralmente più quadrata io probabilmente userò questa per disegnare la punta più quadrata possibile perché come vedete è quella forse un po' più netta questa qui è quella un pochino più sfumata penso di utilizzare quella più quadrata usiamo un tratto sottile per esempio mettiamo 40 ecco ricordatevi che la vostra pressione determina lo spesso di una linea come potete vedere più ci pigio e più diventa grossa eppure sono tutte righe di 40 allora facciamo i capelli magari utilizzate la tecnica del fare alcune cose più o meno marcate in base a quanto volete che si notino ecco non tutte le linee meritano di essere marcate alla stessa maniera ecco qui per esempio c'è un tratto che non so bene come risolvere perché l'ho fatto un po' superficialmente ecco c'è un problema nei capelli ragazzi lo sapevo che sarebbero usciti dei problemi ma si risolve si risolve non vi preoccupate si risolve molto presto ecco non mi sta piacendo come sto ripassando naturalmente voi non avete idea ma questa è la fase che prende più tempo in assoluto fai lo sketch non è niente è ripassare il vero problema perché il ripasso è la parte più importante perché è quella che letteralmente vi definisce il disegno quella che vi dà la line art ma che state celebrare i matrimoni nella mia live per caso comunque sono contenta di vedere che qui sboccia l'amore comunque vediamo se riesco a dargli una definizione qui c'è il ciuffetto di capelli di glitch esatto poi andiamo a farci anche delle ciocche aggiuntive perché danno spessore ecco e qualcosa del genere dall'altro lato la stessa cosa mi piace fare a volte delle ciocche che danno un po' di spessore anche un po' più strane in fondo perché alla fine i capelli non stanno mai troppo super ordinati o almeno a me a voi non lo so a me non stanno mai super ordinati ecco mi piace fare questi ciuffetti in fondo un po' così delle volte che danno quell'area di mi si sono un po' arricciati i capelli ma non sono sicura di averla scelta io sta cosa vediamo ora c'è da fare i ciuffi più grandi ci sto già impazzendo ora mi sa che non ci andiamo mai non ho il cappuccio collegato alla maglia non si vede ma è collegato state tranquilli è che ci sono i capelli davanti provate a fare questo effetto se avete i capelli lunghi mettetevi una felpa col cappuccio e tirate fuori i capelli è come se li avesse divisi in due se Glitch la vedete da dietro vi faccio lo schizzo i capelli ce li ha messi così non so se è chiaro il concetto questa è la testa di Glitch anzi ve lo faccio meglio perché così sembra un'altra cosa allora questa è Glitch vista da dietro i capelli ce li ha messi così cioè divisi ai lati della testa e che le spuntano fuori dalle spalle non so se non so se voi ce lo vedete comunque il senso è quello spero di aver velo fatto capire allora quindi in realtà sì sì è collegata la cosa state tranquilli ah il matrimonio fra me e Bladi state celebrando ma potete almeno avvisarmi se dovevo sposarmi con Bladi almeno mi vestivo per l'occasione scusate ora sono in maglietta e non me l'aspettavo nel senso ditemelo ste cose cioè accidenti ditemelo ste cose se mi devo sposare voglio essere vestita per l'occasione non è che mi sposo tutti i giorni io eh so che vi sembra strano ma non è che ci passo le giornate a sposarmi ok vediamo disegnare anche questa parte qui dei capelli sì più o meno ci siamo dai più o meno direi che ci siamo abbastanza mossi li ho fatti mi fa piacere saperlo e qui facciamo un ciuffetto un po' sbarazzino volendo anche verso l'esterno non lo so è rischioso fare i ciuffi verso l'esterno rischiamo di rovinare un po' l'effetto finale ogni tanto guardate anche da lontano se vi sta piacendo come sta avvenendo sì mi sta piacendo quindi andiamo avanti andiamo avanti di questo passo vediamo un po' di riuscire a fare dei bei movimenti capelli mossi a me piace disegnarli perché danno movimento non so disegnare bene i boccoli per quello ci vuole Lucia a parte che c'è qualcosa che Lucia non sa disegnare comunque disegniamo i boccoli cioè disegniamo questi finti riccioli questi capelli mossi non i boccoli come Bladi che sembra che si faccia i bigodini invece sono i capelli veri sono quasi tentata a fare copia in colla perché mi piace di più come è venuto da questo lato però prima di darsi per dispersi craft proviamoci ecco qui ci sono quell'alto ciuffo di capelli qui dietro si vederà comunque un po' di capelli che spuntano da dietro perché sono divisi e qui ci sarà il ciuffo più grande di capelli che è quello che appunto esce da dietro le spalle ecco l'effetto voluto più o meno l'ho raggiunto là ecco grice i capelli tutti così allora qui in realtà ci sarebbe un altro pezzo di capelli da far uscire che si fa ce lo facciamo o non ce lo facciamo proviamo a farcelo in questo punto qui deve uscire un'altra ciocca vediamo se si riesce a farla per benino vediamo ecco qualcosa di genere qualcosa di genere ci può stare dai capelli un po' più voluminosi e ci può stare in realtà la facciamo un po' più voluminosi anche da quest'altro lato ok qualcosa di simile dai direi che ci possono stare come capelli questi qua sì dai sono abbastanza soddisfatta del risultato allora ah no mi state sposando te e Giges ah va bene va bene importante sapere no perché non stavo capendo che no se stavano celebrando ma comunque ma porca miseria se celevate dei matrimoni non è nei miei live ripeto voglio essere vestita adeguatamente anche per un matrimonio mica scendei con la maglietta scusatemi c'è un po' un po' di eleganza in questo pianeta ok adesso che abbiamo i capelli cosa che solitamente non è la prima cosa che disegno ma in questo caso poteva avere senso perché serviva per darsi un aiuto con il viso adesso andiamo a disegnare appunto i lineamenti allora cara Glitch tu hai degli occhi enormemente pieni di ciglia andiamo a vedere una reference la mia stessa reference ovvero il mio disegno prendiamolo un attimo e mettiamolo lì vicino Kyria Kyria con Norby Norby Kyria siete pregati per avvicinarvi alla cassa grazie mettiamolo qui accanto proprio letteralmente vicino per dare un'occhiata come mi sono fatta agli occhi perché mi piaceva l'effetto che gli avevo dato quindi vorrei cercare di recuperarlo copiare a se stessi ragazzi non è copiare ovviamente e a volte mi capita anche di copiare incollare le cose proprio dai disegni miei ma questo lo concedo non lo considero una scopiazzata perché non lo è alla fine se io copio da quello che ho fatto io è tutto legittimo ora tre ore ci vorranno soltanto per disegnare il primo occhio poi lo copio in collo l'altro e non pensate male gli occhi voglio che siano molto definiti perché non avendo le pupille più di tanto voglio che lo sguardo si trasmetta attraverso appunto le ciglia tipo così appunto vediamo un po' a che punto si arriva ecco tipo qualcosa del genere più spesso però e magari un po' ma beh si più o meno ci può stare disegniamo anche le ciglia da questo lato ovviamente le ciglia lunghe molto lunghe un po' occhia cerbiata li voglio fare perché glitch è super sexy primo lo sa meglio di chiunque altro quanto è sexy glitch vero Bladi Bladi è il doppiatore di primo per chi non lo sapesse ma il Bladi è entrato dappertutto e quindi facciamole però l'occhio un pochino più aperto da questo lato un po' più allungato preferisco poi ci ripasso magari con il marrone per dare più definizione ma troppo allungato non mi piace più facciamolo più così vediamo se riesco odio disegnare gli occhi gli occhi ragazzi sono una delle parti più importanti quando si disegna in questa maniera perché danno tutta l'espessività al volto gli occhi dicono tutto e non li riesco a disegnare porca miseria dai Kira puoi tu puoi io so che puoi dai Kira so che puoi farcela no no Kira non può farcela ecco si si può farcela può farcela no sono I'm confused forse ho sbagliato qui la linea devo farla più lunga aspettatelo ci penso io ci penso io direbbe Komaki quindi ci penso io là facciamola più così più così due ore a disegnare un occhio ragazzi letteralmente due ore a disegnare un occhio vediamo di farlo più così ho fatto casino con le ciglia adesso non sono sicura di me stessa in questo istante me la sento un po' andar via facciamo la ciglia qui sotto e anche di qua come ho fatto con la mia Kiri Orvi che è la ship da Kiri Orvi la ship nel senso proprio una nave che affonda letteralmente non sono convinta non so se era chiaro il concetto ma non sono convinta però guardava lontano in realtà non mi dispiace quindi può darsi che lo tenga anche così l'occhio allora facciamo delle altre ciglia più sotto magari perché mi sono accorta che forse il problema sta lì no il problema sta di qua aspettate ci sono le ciglia nel posto sbagliato ecco capite cosa intendo quando vi dico che il processo creativo è lungo e pieno di insidie questo intendo che quando poi andate a ripassare sembra tutto molto più scorfano di prima quando si fa lo schizzo è tutto molto divertente è tutto molto carino molto puccioloso poi si vanno a fare a ripassare le cose e vi accorgete conto l'hai fatto degli arrosti tremendi vi accorgete conto ho detto mamma mia chi ha imparato a parlare nella tua vita hai ventordici anni ormai dovresti sapere come si parla proviamo così un po' più appuntite queste ciglia ecco esatto più grossa questa ciglia qua ecco ora secondo me va già meglio va già meglio rispetto a prima delle ciglia esagerate glitch ma va bene così dall'altro lato non si vedono però si vedono solo da questa parte perché c'è la ricapia di sopra quindi facciamolo soltanto che si veda da questo lato che si vedano soltanto le cigliette che spuntano da questo lato quelle più corte ai lati dell'occhio è così e poi sotto perché sotto comunque si vedranno ancora come ho fatto dell'altro punto del disegno ecco facciamo qua e poi proseguiamo da questa direzione perfetto ricordatevi sempre che poi l'occhio è da colorato di bianco quindi date di una forma che colorata di bianco abbia senso non che poi diventi un occhio triangolo a me a volte mi è successo ecco qualcosa del genere sembra tipo la sposa cadavere ma è esattamente l'effetto che volevo ottenere a me le ciglia sotto piacciono ma quelli sono gusti e posso rendermi conto che a tutti possono non piacere magari però ho fatto un po' male questa linea la faccio più continuata facciamo così facciamola così e per dargli un effetto un po' più femminile cioè non lo so a me piace poi sono gusti ripeto sono semplicemente una questione di gusti non vi dico che dovete fare come faccio necessariamente vi dico soltanto un consiglio e vi faccio vedere un metodo che è il mio che non è perfetto è sicuramente da migliorare da riaggiustare da rivedere però a me piace fare molte ciglia negli occhi sarà perché boh sarà perché sono cresciuta con le bambole che avevano le ciglia grosse quindi le faccio così anch'io ecco questo occhio qui è un po' diverso perché è in prospettiva leggermente rispetto all'altro ripeto sono gusti e facciamo le cigliette qua ok a posto in realtà è un po' come mettersi il mascara nelle ciglia inferiori non lo fanno tutti ma se lo fai perché no tutto sommato io per esempio sono di quelle che quando si trucca si mette il mascara anche nelle ciglia inferiori perché le piace poi al massimo le tolgo se non mi piacciono non è impossibile allora adesso il naso il naso per qualche motivo è finito troppo verso destra lo rimettevo più a sinistra però un naso piccolo piccolo perché mi piace fare i nasini piccini 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 quello per compensazione perché il mio è enorme poi qui si vede un sopracciglio che spunta solo uno perché l'altro non si vede in realtà però abbiamo curato l'espressione lo stesso quindi dovrebbe intuirsi che espressione ha glitch facciamoli là la di gabbiano dai un pochino un pochino pochino perché poi ricordatevi le sopracciglie non fatele mai troppo arcuate perché l'effetto strega di bianca biancaneve è dietro l'angolo e ve lo dico per esperienza cioè fare l'effetto da strega cattiva non ci vuole proprio niente no fanno schifo le sopracciglia rifamole non mi piace niente vi consiglio fortemente di stare sempre attenti quando fate le sopracciglia a non farle né troppo dritte né troppo arcuate anche perché che danno molta espressività tipo se già la faccio così sembra perplessa se la faccio così sembra arrabbiata se la faccio così sembra la strega di biancaneve come vi dicevo e invece gliela facciamo un po' alzata e più o meno rotonda perché così da un effetto più giovane più buono le sopracciglia spessi danno idea di essere più giovani quelle più sottili danno idea di essere più vecchi anche perché a volte semplicemente da giovani uno non ci fa caso poi da vecchio magari gli cadono quindi si lascia così allora vediamo un po' di fare anche la boccuccia di glitch torna qua vediamo di fare anche no stava andando via la tavoletta grafica come avete visto non stava prendendo il touch screen facciamo una bella bocca sorridente tipo così no è stata storta due ore per disegnare una bocca ve lo dico è tutto normale è tutto regolare come vedete rispetto alla versione originale i lineamenti sono leggermente spostati verso il centro perché questo è accaduto perché evidentemente avevo fatto il posto sbagliato però li tiro un po' più su per darle un'area più bambinesca vediamo un po' li tiro un pochino più su il naso e anche la bocca vediamo un po' secondo me potrebbe essere un effetto più carino poi devo disegnare anche gli occhi in trasparenza probabilmente deciderò non ho ancora deciso se li disegno gli occhi alla fine in trasparenza oppure se non li metto affatto e mi chiamo a farci un bel po' di luci che servano per appunto come illuminazione del viso ecco adesso questo che so che lo volete sapere chi ha usato la super chat Ant santo cielo grazie mille ciao Chia ti ricordo di me ti amo ma che dolce ma grazie ma sei dolcissimo ma sei un tesoro veramente grazie non l'avevo mai vista questa tanto che non vedeva super chat così grazie mille Ant scrivimi anche su su Discord se ti capita perché a volte mi dimentico un po' le cose ma se mi da qualche particolare poi me le ricordo le ho fatte troppo grosse secondo voi le sopracciglia ragazzi non lo so secondo me possono ancora starci vabbè le assottigliamo un pochino dai le assottigliate un po' magari così vi convincono di più i miei personaggi hanno tutte le sopracciglia abbastanza grandi in realtà però forse qui avete ragione è un po' grande è un po' grande però ci può stare alla fine Glitcher non si sa come abbia le sopracciglia non si vedono quindi alla fine è tutta fantasia è tutta fantasia mia ora disegniamo il viso disegniamo il viso per dare un'idea di come è venuto l'ovale del viso in generale vediamo come è venuto fuori ho preso un alto livello sì allora vediamo un po' troppe guance non mi piace quando sono troppo sguanciosi i miei personaggi qui ci vorranno anche qui altri 40 minuti per decidere dove voglio il viso ecco qui è venuta una piega che non mi piace provo a sottigliarla un po' disse quella che stava sottigliando mentre ispessiva ecco quanta differenza che c'è ragazzi da fare uno sketch e cercare di ripassare voi non sono proprio due mondi diversi letteralmente due mondi diversi ecco facciamo più così no 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 Kiria no così e così sì così ci sta no Kiria fa schifo rifallo hashtag Kiria rifallo se qui c'è l'occhio qui c'è la piega della guancia e qui c'è la guancia e qui c'è il mento e dopo il mento viene il dico la verità potete anche bannarmi dal mio canale dopo aver visto dopo che ho detto questa cosa la ecco più o meno più o meno ci siamo facciamo anche il collo il collo grazie non questa roba qui il collo va qua qui ci sono le clavicole le clavicole soppiatte perché sono ossi letteralmente ok ragazzi abbiamo iniziato a ripassare il glitch 999 adesso togliamo il sotto e vediamo come è venuta direi che ci può stare abbastanza convincente immaginateva poi colorata e con il resto del corpo direi che ci può stare onestamente spero che vi sia piaciuta come effetto allora ragazzi questa live sta durando già da un pochino se non ricordo male l'ho iniziata tipo un'ora fa questo significa che probabilmente mi do per tranquilla come vedete sono molto lenta a disegnare molto molto lenta ecco questo è perché le cose le voglio fare con attenzione comunque vi ringrazio tantissimo per stati con me fino a questo punto però magari visto che siete in abbastanza ancora non siete andati a cena sapete cosa faccio continuo ancora un po' continuo ancora un po' e provo a disegnare il cappuccio proviamo a disegnare il cappuccio dai proviamo a fare anche questo così la inquadriamo ancora meglio glitch rimettiamo questo livello e proviamo a fare anche il cappuccio di solito potendo a non disegnare ogni singola cosa su un livello diverso eh chi si è sposato in chat Gigeshe con 28 magno ma Gigeshe ma non dovevi sposarti con Komaki tu non mi tornano ste cose ragazzi non non mi tornano ma ma io mi sono sposata o no in questa chat spiegatemi un attimo spiegatemi un attimo se mi sono sposata anche io perché mi interessa no vabbè dai hai ragione non chiudo ancora la live dai continuo ancora un attimino visto che ci siete la continuo ancora un po' allora facciamo il cappuccio magari spostiamo questa chia qui perché è in un punto sbagliato mi dà un po' noia mettiamola più un qua anzi mettiamola più sotto torniamo dove era prima proviamo a disegnare il cappuccio allora il cappuccio ovviamente è una parte importante di glitch vediamo di non farlo troppo statico perché sennò poi non sembra movimentata la figura allora ogni tanto il disegno lo possiamo anche girare se vi pare di girarlo non è che non si possa ecco questo intendo che girare perché mi torna meglio fare certe curve se il foglio è girato ecco perfetto qua appunto a posto facciamo una bella linea del cappuccio bella netta ma più spessa di quella dei capelli cioè che cominci sottile poi vada a ispessirsi dopo no non mi sta riuscendo facciamola al contrario allora facciamola al contrario mi è venuta quasi alla prima proviamo la seconda eh ragazzi le linee a volte vanno rifatte 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 come esercizi di matematica quando non vengono ok ok proviamo a disegnare anche l'altro pezzo del cappuccio poi questo disegno subirà ancora dei tocchi eh anche in fase poi di post live state tranquilli che lo riaggiusterò molto presto perché questo disegno diventerà un log uno dei design per spedshirt come sapete i disegni su spedshirt l'ho fatti tutti io se non conoscete spedshirt è un negozio che vende gadget firmati Kyria eterna love non soltanto eh non soltanto in class non soltanto Kyria ci sono disegni di tante persone però c'è il mio negozio personale ora cerchiamo di fare una riga bella continua o almeno una riga bella se non continua odio fare l'interruzione di linea ma ogni tanto mi tocca farle per il semplice motivo che la mano deve riprendere fiato si anche lei anche le mani riprendono fiato lo so che vi sembra strano ma è così vediamo se riesco no non sto riuscendo a riprenderla non riesco a riprendere la linea chi se ne frega la riparto di qua ecco poi ovviamente devo fare anche delle cancellazioni no mi sta sfuggendo la mano ok ora ce la possiamo fare ogni tanto ho bisogno di spostare letteralmente il disegno per farcela perché se non lo sposto non riesco a trovare la prospettiva giusta per metterla a mano ecco la ok abbiamo fatto il cappuccio che è la linea un po' troppo spessa sta linea miseria ladra ragazzi quanto ce ne vuole di pazienza per fare ste cose cioè che poi magari vedete i disegnati professionisti che in 4 secondi e mezzo te le fanno ma io non sono un professionista sono un amatoriale quindi ci sta che sia più lenta del normale anche perché questo non è letteralmente il mio lavoro è soltanto una cosa che mi piace fare e che un po' mi riesce a fare senza falsa modestia ecco facciamo anche dei pezzi di felpa ora che ci siamo non ti è arrivata la maglietta ancora mi dispiace l'hai presa nel mio negozio ufficiale spero di sì spero sinceramente di sì perché ci sono anche dei fake delle mie magliette l'ho trovata su amazon e ci sono persone che vendono le magliette col mio vecchio logo quello dell'Eterna Love CL che non ho messe di io è una cosa chiaramente fake che non so perché esista probabilmente non è neanche del tutto legale sta cosa anzi devo andare a informarmi sul fatto che non lo è ok disegniamo anche qualcosa altro della felpa un po' di linee che servono a dare l'effetto movimentato al tutto il seno non sono sicuro di averlo messo in una posizione giusta onestamente penso di sì però boh sì dovrebbe essere in una posizione giusta e disegniamo anche le pieghe della felpa perché la felpa è un po' di quegli tessuti morbidi che tende a spiegazzarsi facilmente quindi facciamogli qualche piegatura ancora me la devo studiare bene come si fanno queste cose ma ci sto provando ragazzi ci sto provando un po' col colore viene meglio come effetto di solito ok no un po' più di bordo in fondo li voglio fare ecco così così esattamente così volevo sto sbagliando linea ovviamente proviamo a seguirla per bene là ok qui c'è un po' di spiegazzamento dovuto al fatto che grigio si sia messa seduta e qua è comunque un tessuto morbido quindi la linea non è completamente dritta però non perdete la linea in giro come faccio io perché poi riprenderla è difficile troppa curva meno curva ok così dovrebbe andare ok così dovrebbe andare qualche piega perché ci sta ecco qualcosa del genere e più o meno abbiamo ottenuto l'effetto ad una felpa un po' spiegazzata allora ragazzi lo sapete non posso salutarvi uno per uno perché mi ci perdo però vi saluto tutti perché vi voglio bene a tutti sapete siete i miei tesorini e vi voglio tanto tanto bene anche Vlad vi vuole bene ricordatevelo i moderatori tutti vi vogliono bene e adesso arriva la parte che odio quella di ripassare le maniche di cui non sono assolutamente torna qua maledetto quelle di cui non sono completamente convinta qualche spiegazzo glielo faccio perché sì però no vabbè magari magari non sono così orribili come maniche dai pensavo di averle fatte più brutte quando le stavo disegnando prima ci possono ancora stare magari bisogna enfatizzare un po' questa piega perché qui la felpa si piega molto perché ovviamente è la piega del gomito però dai ci può stare ci può stare ah è bladi che ha sposato aspetta non ci sto capendo poi mi dovete rispiegare questa cosa dei matrimoni ciao gigesh ciao comachi ciao domenico ciao bladi siete tutti i moderatori ma non sto capendo il matrimonio chi ha celebrato il matrimonio cosa è successo chi ha sposato chi ragazzi mi state confondendo io veramente mi distraggo tre secondi e qui la gente si sposa bello ripeto bellissima come cosa ma invitatemi almeno invitatemi e ditemelo con modo anticipo così mi verso per l'occasione ecco più o meno no qui non mi piace no non mi piace questa linea non mi piace questa linea non mi piace questa linea ecco mettiamoci qualche piega perché si ok più o meno direi che l'effetto maniche l'ho dato in qualche modo ora mi dovete spiegare cosa avete fatto come matrimoni qui perché mi interessa sta cosa allora aspetta Gigesha costretto bladi a sposarla con salvate sempre disegni ogni tanto capita perché se poi vi avvia il lavoro quando siete già a un punto buono avviato vi viene la voia di uccidere il cosmo dovete disegnare anche le manine adesso odio disegnare le mani odio disegnare le mani vabbè proviamoci proviamoci al massimo poi le rifaccio chi chiri tesoro che è successo dillo chiri dimmi amore mio bladi bladi ha sposato Gigesha con un tipo ma bladi non ha la licenza di fare i matrimoni la che ci pensa ma Gigesha ha censato il matrimonio non mi ama più Gigesha io provo le cose di tutte e due come provi le cose di tutte e due ma non lo so io mi vedo come due sorelle ma ma come ti sei per me io ti odio bladi come ti sei permesso bladi perchè hai sposato Gigesha ero già sposata con me Gigesha sei una capra sono orribile anche te bladi ma scusami ma cosa vuoi sposare le persone non hai l'autorizzazione per fare queste cose Gigesha ma noi volevamo sposarci io voglio divorzio su The Sims basta quando mai si è vero allora su io basta basta c'è basta non so io bladi c'è la brutta persona mi ha spettato il cuore no io ti bago il matrimonio ma bladi non è 28 magno io vi dichiaro ci dichiaro ci dichiaro ci dichiaro e basta grazie ma non non mi fate rimane male comaki questi matrimoni però meravigliosi ecco si è andato non non siamo non siamo sotto i ciecom ma che contenio contenio ma cosa hai sul dito qualcuno mi vuole sposare in chat per favore cerco cerco nuova nuova sposa domenico ma 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 in cesto così così la conferma per femmina diciamo perché domenica è il nome di una femmina ma domenica sì domenico no eh io ho la chat io sono triste come dice veramente come ti sei permessa di fare una cosa del genere ma ma me l'ha chiesto ma cosa ti l'ha chiesto allora io adesso accetto qualsiasi matrimonio mi chiedono ma uno me lo chiede ok ma ma capri nella precedenza sulle due nozze intanto guarda in chat quante persone mi vogliono sposare ti sei perso un bellissimo pomodoro sì ma ragazzi con Maki non può andare a mangiare il sushi no ragazzi veramente sposate con Maki anzi ragazze sposate con Maki ma come sposate con Maki ma Gigi io ma ancora te non puoi fare questo c'era appena scritto una fanfiction e tu come tratti il nostro amore così cioè veramente mori infatti vai via ma ma ragazzi qui succedono delle cose in queste live veramente io posso farti una scelata no 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 non gliela puoi fare si va bene tesoro no che tenere guardate si fa perdonare dicendo dimagamente flauto è la volta buona che mi sarebbe passata la cotta a me guarda che dolce mi sta dedicando una serenata senti luca a casa di comaki ma non non tanto che sia così brava a suonare il flauto tesoro farti vedere da uno specialista no ti perdono se adesso lo sforzi comaki controllati siamo su youtube porca miseria ma che capperino fai ma tu chi non si è accorta che i DJ ci siamo messi a cantare in chat no per fortuna non me ne ho accorta stavo disegnando ragazzi io non mi sono accorta di niente ma io non la perdonerei al tuo posto io propongo di bannare 28 magno così siamo tutti felici dov'è 20 magno cosa fai bagniamolo lo banno io il nostro amore non potrebbe essere ma il matrimonio non è valido non è valido il matrimonio ve l'ho già spiegato è stato nominato non è valido il matrimonio bladi non ha autorizzato a sposare nessuno chi è che non ha autorizzato a sposare bladi non ha l'autorizzazione per sposare e celebrare i matrimoni quindi non è valido certo che ce l'ha noi l'abbiamo fatta conferire no non è vera sta cosa non ha nessuna non è vero ma invece è vero come hai potuto tradirmi con un ragazzo manco parini aveva il certificato di matrimonio ma ha sposato le persone no non la voglio più la giocera è nata no neanche noi la vogliamo più quindi basta serenare basta serenare non siamo sereni per niente se canti no basta non voglio più la tua serenata mi sento profondamente offesa nel mio cuoricino il mio cuoricino si è spezzato in tanti piccoli pezzettini in tanti piccoli pomodori in tanti piccoli lesbiche la mia ti dicono di sposare i comacchi noni 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 non posso non posso sposare con i comacchi se voglio restare fuori comunque grazie a tutte le persone che mi vogliono sposare in chat ma lei vuole una una persona che gli stia sempre accanto macra capelli neri biondi sex no bladi no bladi no bladi bellissima secca guarda bladi solo perché ti sei scritto da solo su un foglio di carta che puoi sposare le persone non vuol dire che tu possa bladi può sposare chi vuole vero bladi no no bladi io ti odio hai rovinato il matrimonio bellissimo non è valido bladi non è valido fate una ragione io mi sento profondamente offesa da bladi ma non soltanto per questo anche perché lui ci scippava quindi sono ancora offesa del doppio no tranquilla poi lo punisco in privata non vi preoccupate falla mille esattamente esattamente no bladi mi è ferito kiri mi aveva detto che ci scippavi ma di jesh adesso che tu non fai più parte della scippaccia io ti tolgo dallo stato di famiglia ma è ancora fanfiction adesso ma cosa vuoi di più cosa vuoi di più no jesh questo sopprimento da te non ce l'aspettavamo però eh io vado a sopprimermi tradire così comachi davanti a tutti poi cioè veramente con 28 magno non ce l'aspettavamo almeno fosse una donna cioè pure un maschio è un maschio o non sai ma io non so se è un maschio o non se si chiama magno sarà un maschio non è detto ormai non è detto nulla domenico non è si sa ormai Arianna Arianna tu che stai scrivendo la fanfiction su me jesh mi raccomando non fare nessun tradimento che almeno lì perché poi ci rimango male io mi invido di te viva la co-jesh aggiorna aggiorna voglio leggere la mia sorellina non me la trattate ma anche io voglio leggere continuo a scrivere io la leggo la mia sorellina quale corna dicono tutto e me c'è solo una persona alla volta jesh vabbè comunque poi non vi preoccupate bladi verrà punito in privato per quello che ha fatto aspettate ragazzi aspettate esatto esatto ti sposo ho undici anni eppure e mezzo non sono pedofila abbia pazienza aspetta ancora un po' prima aspetta un po' perché undici anni per me sono un po' pochi esatto 28 maggio il numero io no ti sposi con un numero allora ti sposi con 24 ragazzi scrivete tutti in chat hashtag viva la co-jesh ma viva la co-jesh per forza ma scherzi davvero la co-jesh ragazzi questo qua succederà dopo fra Kiri e Bladie ho paura ma non ho sentito mi sa no non c'è bisogno di sentire e me hanno stornuto no no erano stornuto erano stornuto erano stornuto sì assolutamente io sono ancora un po' scosso e trischi get me looking so crazy crazy right now 50 sfatture di sangue no 50 sfatture di rosso sangue sono triste bravi ragazzi continuate a spammare esatto spammate la co-jesh come se non ci fossero domani ragazzi quella che doveva essere una tranquilla live di disegno è diventata una live dedicata alle ship più shippate vabbè a me manca a me la shippano con persone che no ma la co-jesh ha senso come ship perlomeno sì ma sono triste ma la mia con giulia e il mio con gigesce no la mia con gigesce che cosa non lo so come chiama la ship fra me e giulia e fra me e comaghi non è un nome allora innanzitutto la mia con giulia e la mia con gigesce mi sono impappinato mi sa scusami un attimo da quando è che c'è la ship tra me e jesh e te no no tra domenico e me e fra domenico domenico e te ma la ship però anche con me e domenico la ship parte anche con me e domenico delle volte non è che sempre a quell'emotiva ogni anno qualche mese non è più nino nino vabbè allora domenico ci sta ciao Lucia bellissima ci sei anche tu Lucia veni da me ho bisogno di qualcuno che mi voglia bene devi venire a consolare Komaki poverina appena stata scaricata da gigesce scaricata tradita scaricata la tradita adesso mi scarica pure allora siamo messi bene la tradita letteralmente cioè la ship la kogesh ma hanno scritto una fanfiction eh lo so ma tutti la shipiamo la kogesh ma scherzi perfetto potrò soltanto leggerla ma tu devi soffocare la tua opinione non conta però io voglio scene un po' piccanti in quella voglio le scene un po' piccanti sentilo stu qua voglio le scene otte 50 sfumature di kogesh ecco questa movie e lo sapevo e anche la live su youtube io faccio la figona dietro la scrivania e tu fai la tipa che arriva a fare è tutto regolare ragazzi tutto regolare tu ti inizia con il gesto che suona il flauto ho dei gusti singolari e io tutta l'ho conquistata col mio flauto ok ragazzi qui le cose sono degenerate definitivamente tanto ho disegnato gli stivani e che flauto oh mio dio bene no tesoro non suonare il flauto in live no non ce n'è bisogno guarda nessuno nessuno sentiva la mancanza di questo come lo vede io ti banno la prossima volta che ti vedo nelle fiere ti mangio io sono il robot delle ship si il robot ho sottorizzato dal mangiare GGS e comande GGS e comande ma chi è sta comande chi è comande errori di sistema la ship tra GGS e comande non può avvelarsi si riprega di riprovare più tardi appure aspetta 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 dove ruoli torno no no aspetta no ferma che poi non posso andare a salturarlo aspetta guarda ops non può più entrare no che sbadata oh guarda bladi te la sei cercata bladi te la sei andata a cercare oh guarda un po per dindirindino io sono stata bannata per molto meno è una volta solo perché ho parlato del sacchetto dell'umido e mi è successo di tutto te che sei riuscita di tu a distruggire una ship te la sei proprio andata a cercare povero bladi che non potrà più entrare a rompere le scatole per ora può vera riammesso forse un giorno chissà allora ma l'hai proprio bannato dal server? ma che cazzo no gli ho soltanto tolto tutti i permessi non può fare più niente ma poverina ma glieli posso ridare i permessi? no ma porca miseria in realtà sì perché io solo ho mentito ah ok non dovevi farlo bladi è stata una pessima scelta tra i due ragazzi comunque mi hanno chiamato per andare a mangiare il che significa che devo andare a mangiare io vi ringrazio tantissimo per stati con me fino a questo momento ringrazio i moderatori che sono venuti a fare un po' di di beautiful in diretta perché questa cosa dei matrimoni effettivamente è molto sexy e molto sono sono un accomacchio ancora col cuoricino spezzato ecco appunto no basta rimettino di suonare il flauto in live non serve a niente almeno glitch 999 è stata un po' portata avanti gli mancano le mani come potete vedere ma a parte quello ragazzi io vi inviterei a salutare quindi dite tutti ciao dite ciao quindi quindi dal dal flauto di dal flauto è tutto da Gigesch è tutto da tutti è tutto grazie a Lucia che è passata dalla live grazie a tutti i moderatori meravigliosi andiamo a consolare con Maki poverina perché è triste grazie a tutti e alla prossima con salutare ciao ciao anzi me lo scrivo ciao ciao ciao